Un saluto a tutti i miei fan e a quelli che stanno guardando il mio video perché adesso si parla di Fantastoria L'argomento che volevo dire è che a scuola ci sono delle cose sbagliate sulla storia come ad esempio quando vogliono far credere che la ruota sia stato il primo oggetto creato dall'uomo non è così, è l'alange il primo oggetto creato dall'uomo e poi ci sono tanti altri oggetti come ad esempio le pentole oppure altri utensili del Neolitico e del Paleolitico di cui adesso li chiamano O-Part, oggetti fuori dal tempo e poi un'altra cosa della Fantastoria è quando parlano di Cristoforo Colombo e la sua scoperta dell'America che vogliono dire che lui vogliono spiegare che la Terra fosse tonda anche Dandalighieri che è vissuto prima di Cristoforo Colombo ha rappresentato la Terra in forma sferica e prima di Dandalighieri i Sumeri già sapevano che la Terra era forma sferica perciò Cristoforo Colombo non voleva spiegare che la Terra era forma sferica per andare in America che poi la scambiò per l'India voleva solo spiegare che Atlantide non esiste perché a quell'epoca erano tutti che credevano alla teoria di Platone all'esistenza dell'isola di Atlantide come un'isola molto potente lui ha spiegato solo che Atlantide non esiste che è un mito un'altra cosa che ha a che fare con la Fantastoria lo sbarco sulla Luna di Neil Armstrong non fu lui il primo uomo sulla Luna bensì un russo e con questo della Fantastoria è tutto un abbraccio dal gran mitico